Sono i giocattoli dei bambini i protagonisti del nuovo calendario dei Vigili del Fuoco 2021 realizzato con la collaborazione di Unicef Italia, presentato in streaming a Roma alla presenza del ministro dell'interno Lamorgese. I giochi rappresentano il campo dove i bambini scoprono e si misurano col mondo, ha detto il capo del Corpo Nazionale Fabio Dattilo. E tra gli eroi più ricercati dei più piccoli ci sono senz'altro i pompieri, eroi che arrivano sempre al momento giusto per salvare la gente.